Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, sono a Firenze, beati voi che siete ad Arezzo. Apriamo la trasmissione di oggi con una notizia che appariva sul giornale Il Firenze di ieri, il morto di quest'anno, il morto della vigilia di Natale di quest'anno. Sembra che si sia preso a Firenze l'abitudine di, in qualche modo, ricordarsi che è Natale grazie ad un clochard, un poveraccio, un barbone cosiddetto, che muore. L'anno scorso c'è stato un indiano, una persona di nazionalità indiana, che è morto alla stazione di Campodimarte e quest'oggi invece, a pochi metri dalla stazione centrale di Firenze, l'altro ieri, è morto un 48enne polacco stroncato da un attacco di cuore alla fermata della Sita. Si è anche cercato di soccorrere, per fortuna, ma purtroppo senza esito positivo. La vigilia di Natale, come sapete, queste notizie fanno ancora un po' notizia. Probabilmente se fosse accaduto a metà gennaio non ne avremmo saputo niente, anche perché, a parte il giornale Il Firenze e delle edizioni Epolis, mi sembra che gli altri giornali abbiano riservato uno spazio piuttosto limitato. Invece, è stato dedicato dal Corriere Fiorentino, dalla redazione fiorentina del Corriere della Sera, di martedì 8 dicembre, l'altro ieri, un paginone intero ad un fenomeno interessante che spiega, a mio parere, molte cose sulla situazione italiana, umana, italiana, di conseguenza sociale e politica, perché è l'uomo poi alla fine, con i suoi comportamenti, che determina la qualità della vita, ma anche della politica e delle attività sociali. Mamma mia che ultras i genitori in tribuna. Allora, la notizia è che una partita tra ragazzini di 8 anni è stata interrotta perché i loro genitori stavano menandosi di santa ragione sulle tribune. I bambini scioccati hanno smesso di giocare e gli allenatori e l'arbitro hanno concordato nel sospendere la partita e nel organizzare per uno dei prossimi giorni una partita di paratoria. Questa notizia non è nuova, anzi di questi fatti, cioè di genitori che se le danno si picchiano e fanno risse sulle tribune di partite che riguardano bambini i pulcini, i cosiddetti calciatori di 8, 9, 10, 11 anni, ce ne sono moltissime. Tant'è vero che il Corriere riporta una dichiarazione di un giudice sportivo carta canta o meglio racconta. Basta dare uno sguardo al bollettino della FIGC, che è la Federazione Italiana di Gioco e Calcio, che ogni settimana, il mercoledì, combina multe e squalifiche per rendersene conto. Come nel caso dell'ultima settimana, protagonisti dei diverbi, sempre genitori e arbitri, con qualche preoccupante eccezione dove a finire nel parapiglio ci sono anche i ragazzi. Si parla della categoria juniores, provinciale, età massima, classe 1991. Al Firenzuola, una multa di 52 euro, offese al direttore di gara da parte dei propri sostenitori per tutto l'arco della gara. C'è poi una squalifica di quattro gare per un ragazzo del Gambassi, che ha offeso ripetutamente il direttore di gara. Ma il peggio deve ancora venire, perché la giornata del 28 novembre è stata calda, scrive il Corriere di Fiorentino, soprattutto tra gli allievi, classe 94. A Borro San Lorenzo, in occasione della gara con la Sestese, la Fortis Juventus è stata multata per 90 euro per avere i propri tifosi incitati, i propri calciatori, ad una condotta violenta nei confronti del direttore di gara. In pratica i genitori aizzavano i figlioli a menare l'arbitro e anche gli avversari, colpendo le barriere in plessiglass che dividono gli spalti dal campo con pugni e calci. Il risultato? Tre ragazze della Fortis di nemmeno 15 anni con due giornate di squalifica per aver partecipato in una rissa e due della Sestese per lo stesso motivo. Sempre tra gli allievi, ma nello sport in sesto, un giocatore è stato squalificato per sei giornate per aver colpito con un pugno al volto un avversario in modo da impedirgli di proseguire la gara. Quindi, giovanissimi, classe 96, alla 3S di San Piero, multa di 62 euro per le offese e minacce all'arbitro da parte dei propri sostenitori durante tutto il secondo tempo e a fine gara. E c'è in un'intervista ad uno dei dirigenti della società africo che dice che è brutto doverlo dire, ma per giocare al calcio bisognerebbe che i ragazzini fossero tutti orfani. Vi sto leggendo dal Corriere Fiorentino, non vi sto dicendo cose uscite dalla mia mente bizzarra. E siccome questi fatti accadono ormai da anni, io non lo sapevo, un giorno ho avuto occasione di intervistare un allenatore di una squadra di queste di cui abbiamo parlato ora, ragazzini di 9-10 anni, 11 anni di età, il quale l'allenatore di sua sponte, perché io non ne sapevo niente, mi ha detto che il suo maggior problema è quello di fare la squadra e di affrontare poi i genitori che arrivano in tribuna o che arrivano durante gli allenamenti. Ora, voi capite, e mi hanno anche raccontato dei dettagli, l'ultima rissa, quella di cui parla il giornale che vi ho appena letto, è partita quando uno dei genitori ha cominciato a urlare al proprio figliolo di dare alle gambe degli avversari, cosa che succede spesso, cioè i genitori aizzano i figli a menare anziché giocare al calcio. Capite che in questa situazione il fatto che in Palazzo Vecchio si sia aperto il gruppo della Lega Nord, anche se nessuno l'ha mai votata in elezioni comunali, perché è la trasformazione di un trasformista fiorentino che si chiama Mario Razzanelli, che ha deciso di passare alla Lega, si è messo la cravatta verde e il fazzoletto verde nella giacca. Ha una spiegazione molto semplice, è chiaro che Mario Razzanelli ha capito che il leghismo in Toscana è soprattutto un comportamento generale trasversale, per cui la prepotenza e la voglia di fare giustizia da sé, che è tipica della Lega Nord con grande esponente Calderoli, ma ci sono anche svariati altri esponenti, trova un terreno estremamente fertile anche da noi, anche se ovviamente questo tipo di avvenimenti accadono non solo in Toscana, ma accadono anche altrove. Per cui il problema, il quesito che vi lascio quest'oggi è quanto Calderoli è dentro ognuno di noi, beati voi che siate ad Arezzo a risentirci domani mattina, ciao!